no non voglio andare qui no non voglio andare qui a partire una volta qui che già si vedevano i tanti no non voglio andare qui infatti io lo vedo mi sono fermato qui spostando una volta che viene mi ami mi sono molto ansiosi mi sono riusciti ecco la cura di unraneo mi sono riusciti qua sicuro Grazie